Non so che dire, che cazzo è il pallone distante? Succede che passa clamorosamente in vantaggio il Chievo con Pellissier, bel contropiede ragazzi Contropiede da manuale ma Pellissier ragazzi è veramente immenso Una, permettimi di dirlo, una delle ultime bandiere rimaste Perlomeno in Italia Eh sì, eh sì, ne abbiamo manco salutato, ciao ragazzi e ben ritrovati Chievo Verona Lazio Sì, Chievo Verona Lazio dicevamo, passa in vantaggio il Chievo Poi la Lazio ovviamente ci riprova, specialmente nel secondo tempo Dove trova il pareggio con Immobile Bello scambio con Correa Prende un palo con Immobile Però ecco, negli ultimi minuti il Chievo si è riaffacciato molto Negli ultimissimi minuti di partita infatti fino a che non ci collegassimo col video ragazzi Il Chievo stava attaccando Stava veramente attaccando, sì Ci ha provato con le ultime forze E ora vediamo un po' come finisce Allora guarda, io ti dico quello che penso La Lazio meritava di vincere però Vista l'occasione che ci hanno avuto all'ultimo Io fossi tifoso, fossi stato tifoso della Lazio Avrei pensato, senti Piamoci a sto punto e andiamo se ne a casa che è meglio Perché comunque rischi Nonostante meritavi di vincere addirittura di perderla A tre minuti dalla fine Forse sì Meglio un punto che zero C'è posta l'azione all'ultimo secondo Magari che ti permette di passare in vantaggio Ovviamente parlo per i tifosi della Lazio però Sarebbe meritato Se non dovesse essere ragazzi Poteva andare a finire peggio Io dico se rimane in pareggio Non c'è poco da No, se rimane in pareggio infatti non ci sarebbe da lamentarsi No, da recriminare c'era perché hai creato di più Però da lamentarsi no Guardate, 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 guardate Ancora per lì si è Ma non si ferma Ha sbagliato Ma comunque ragazzi Cioè sta ventina di punti di differenza Tra la Lazio e il Chievo Permettetemi di dirlo Non si vede Nonostante la Lazio sia stata superiore Comunque Il Chievo non subisce senza provarci Qualcosa lo fa Ma il Chievo vedo un po' revitalizzato Così come l'ha fatto col Napoli Pure col Napoli Il Chievo che vedo un po' revitalizzato nelle ultime partite Ma ci avevamo pareggiato pure noi Sì, vabbè, ma una vita fa ci abbiamo pareggiato E' uguale, ci hai sempre pareggiato Eh, lo so, però Nelle ultime partite col cambio all'allenatore Forse ha fatto bene Era proprio quello di cui avevano bisogno Questa in teoria con le squadre De medio-alta classifica Lazio, Roma Napoli Medio-altissima classifica Peccato però che col Chievo Che si è svegliato solamente adesso Forse ormai La lotta per la salvezza Quasi terminata Perché c'hanno due punti Te posso dire una cosa? Situazione del penalizzazione Che secondo me gli hanno dato pochi punti Di penalizzazione Ok, eh Quello è un altro discorso Però mi dispiace per Chievo Perché secondo me è una squadra da serie A Sì, sì, sì Per carico è una squadra da serie A È una squadra che non c'ha tanto budget a disposizione C'ha un'età media alta Ma alla fine A parte quest'anno Sono sempre riusciti ad ottenere una salvezza Abbastanza tranquilla Ecco, è finita, è finita Mi piace Commentate, condividete Iscrivetevi al canale Io mi sto cagando sotto Non solo fisicamente Infatti adesso ci vado Ma quando mai? Ma anche per la partita di dopo Roma-Inter Seguiteci più tardi col post partita Registreremo la live reaction Che vedrete domani alle 14.35 Ma Ma Grazie a tutti